Presentato il cartellone pesarese dell'Orchestra Sinfonica Rossini, sarà una stagione ricca di appuntamenti che coinciderà con i primi 30 anni dell'orchestra, tre decenni caratterizzati da una crescita esponenziale che ha portato la compagine ad essere riconosciuta dal Ministero della Cultura tra le istituzioni concertistiche orchestrali e la inserisce tra le orchestre più prestigiose, attive e creative del territorio nazionale. Un compleanno che non chiude un ciclo ma ne apre uno nuovo, che poggia stolide basi nel passato e guarda ad un futuro ancora più luminoso. Da queste premesse nasce la stagione sinfonica 2023-2024. Dieci eventi di grande profilo, l'avvio di due cicli importanti, quello dedicato alle sinfonie di Beethoven e al compositore Brahms, la conferma di tutto il reparto artistico, quindi il maestro Paolo Rosetti, direttore per l'area artistica, il maestro Daniele Agiman, direttore principale e una novità assoluta, il maestro Riccardo Bisatti come primo direttore ospite. Confermatissimi anche il maestro Noris Borgoggelli alla formazione, Roberto Molinelli, compositore, Daniele Comitini pure. E quindi dieci appuntamenti che partiranno il 9 dicembre con il concerto di Natale e poi il primo gennaio con il primo concerto nel 2024 di Pesaro Capitale. Una stagione maxi non poteva che prevedere ancora più concerti del passato. Dieci gli appuntamenti pesaresi che copriranno una fascia temporale ampia. Il primo concerto del cartellone sarà il 9 dicembre, l'ultimo quello del 16 maggio 2024. Una stagione credo da non perdere. Il mio augurio è che sempre più pubblico faccia gli abbonamenti che sono un regalo che ci si fa per godere di questi dieci appuntamenti, uno più bello dell'altro, senza magari scegliere man mano, ma godendosi proprio tutto il ventaglio, tutto il caleidoscopio che siamo pronti a offrire nella stagione 2023-2024. Grazie. Voglio ringraziare l'Orchestra Sinfonica Rossini e anche tutti gli sponsor perché hanno messo in piedi nell'anno anche del riconoscimento di ICO, quindi di orchestra di rilevanza nazionale del Ministero, con un forte finanziamento ulteriore che si unisce ai nostri sforzi e che costituisce appunto un punto fermo della capitale italiana della cultura in sé, ma anche con la programmazione che a partire dal Natale, ma anche dal concerto di Capodanno, che chiaramente non sarà un Capodanno qualsiasi, con l'avvio della capitale imminente, mette un tassello musicale di livello nazionale e internazionale veramente importante.